Un caro saluto al pubblico della GOG e dell'associazione Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini. Sono due associazioni per cui ho avuto la fortuna di suonare tante volte in questi anni, due associazioni molto importanti per la vita musicale genovese, due associazioni che hanno saputo anche in questo momento così difficile inventarsi un modo per dare voce alla musica e a noi artisti. Lo scorso 9 aprile avrei dovuto eseguire l'integrale degli improvvisi di Franz Schubert e nell'attesa di potervi risuonare tutti oggi vi seguirò il numero 1 dell'Opera 90. Buon ascolto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!